orto biologico guardate primi pomodorini voglio raccogliere senza veleno senza nessun concime poteva essere lasciamo ancora questo qua poteva essere ancora meglio però io non ho dato niente lavorato poco qui terra molto dura mai 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 ne sono coltivato orto non è mio orto di una persona anziana che ho fatto proposta a fare fare qui fare orto qui basilico vedete e ancora questi raccolgo questo bello perché marisa dice vai 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 a cogliere perché andranno male andranno male questi pomodori questo si è infiliato qui ecco libero deve essere perché lui vedete dove è rimasto tra tra canna e tra pianta ora sì se non schiacciava di morire più bisogno la mia bisogna legare raccogliamo ancora questo pomodoro la prossima volta sarà questo e sarà questo questo pomodorini diciamo si chiamano cerigini amici cerigini ho messo quattro piante di cerigini e quattro piante di san marzano san marzano e questi qua è proprio zero 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 perché guardate che sta succedendo cadono tutti i fiori 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 caduti e qui rimasto soltanto un pomodorino vedete cadono tutti i fiori e rimasto un pomodorino ecco fiori dove pianta non ce la fa perché pianta non c'è la sostanza nutrimento pianta vuole stalattico bisogna dare bisogna dare stalattico amici abbiamo provato prova perché se fosse casa mia io ho speso 15 euro per tutti i piante ora non volevo spendere tanto perché sapevo per ritornare indietro che raccolta di 15 euro di spesa c'è ma io avrò verdura indietro con 15 euro oggi si può comprare tanto in supermercato anche bio se tre vuole non venuti asciutto asciutto un pochino qui non troppo io sono qui tutti i giorni ma la fiamo qui qui lontano da radici lontano ecco questo questo ce la pomodorini vedete ah c'è anche questo verde poverino poverino in Italia c'è guerra ora chi poteva immaginare questa guerra mettiamo qua e chiudiamo iscriveteci al mio canale così vedete vita anche andata di là ecco vedete va bene ci vogliamo anche di là perché c'è un pomodoro iscriveteci al mio canale così piano piano vi faccio vedere anche mia casa perché qui io nel lavoro non è casa mia e non è orto mio già detto mi sembra quello che cusino io prezzemolo niente proprio prezzemolo casa mia è cresciuto molto bene nel vaso qui niente qui io naffio naffio sempre uguali inutile naffiare amici vi saluto arrivederci e a presto vado da marisa vado a casa così prendo tutti i pomodori lei dice porta a casa tua porta a casa tua questi pomodori gli dico metta te metta me venuti pochi e limone cresce nel vaso quest'anno ho fatto tanti limoni si ha malato pochino la primavera ma ora sta meglio dove questo era un limone molto grosso qui ecco qua amici questo questo vedete io nascosto qua sennò si rompe perché pesa troppo arrivederci amici a presto a presto